nicola calice nella stampa luca volevo chiederti una cosa ma dopo dopo il precampionato in ghia di c'è proprio che abbiamo fatto schifo luca ci abbiamo perso pure contro norimberga ma te l'aspettava i copminers luca no lo chiedo c'è una domanda legittima ma allora perché proprio un precampionato a miga luca dai a parte che non riconosco nicola che saluto ci seguo avevo anche invitato oggi ma lui si è fermato a verona con la famiglia e quindi mi ha detto guarda che lui era in sala stampa è stato anche bacchettato sulla domanda da tiago nella conferenza post partita però insomma domande ce ne sono state anche interessanti e poi che bello vedere i giocatori in conferenza ogni tanto mi è piaciuto ho visto un vlavic libero di non essere banale nelle risposte e l'ho ascoltato in presa diretta dobbiamo parlare di tante cose balice era il bentegodi pano c'era al bentegodi pano ciao ragazzi ciao a tutti si ero bentegodi sono tornato stamattina alle 5 e per rendere omaggio a edo e al mio personaggio di edo mi sono messo le cuffie quelle lì con cui posso fare così ho dovuto cambiare tutti i dati su football manager devo alzarlo sicuro non c'era neanche il suo football manager luca piano 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 che qua poi se no si scatena subito una shift l'ultima volta parlo benvenuti ci devi raccontare l'experience l'experience del bentegodi ma è rimasto con noi mister zenzo e questo mi fa enorme piacere ciao mister abbraccio parlare dell'attualità juventus e non solo ragazzi io vi ricordo che giovedì alle ore 18 quindi soltanto post domani ci saranno i sorteggi certi no perché è un attimo giovedì ore 18 noi live saremo qua a commentare tutto perché banalmente una cosa noi andremo anche con savona in bangula no chiedo una cosa sulla Champions League allora non ho capito la Champions League avrei molto partite quindi affronteremo non ho capito ma quattro squadre andate di ritorno no 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 100 squadroni due per faccia quindi sette squadre sono andata sette squadre sono andata quattro in casa, quattro in trasferta però diverse beh bello dai avete riconosciuto la sua voce? se non l'avete riconosciuta siete dei pivelli io ve lo dico, non è offensivo però siete dei pivelli perché qui c'è uno dei monumenti di Juventus, Giuseppe Gariffo che poi si è sgretolato con gli anni ma oggi torna con noi ma no, sono sempre stato uno di voi grazie, ciao Luca, ciao a tutti e poi è bello tornare qui nel giorno in cui torniamo prima in classifica da soli dopo una vita il giorno dell'acquisto che aspettavamo tutti dall'inizio dell'estate ed era il giorno Sancho è arrivato? è arrivato Sancho? chi? ah no ah copminers, tu dici l'altro hai sentito nominarlo? hai sentito nominare? in effetti non abbiamo mai sentito parlare di tale copminers teon copminers l'accordo è stato stipulato è stato portato a termine domani anzi questa sera Torino domani domani che giorno è domani? mercoledì domani è mercoledì il giorno in cui annunceranno Sancho? dici mercoledì è mercoledì sia è mercoledì sia 28 agosto il regalone il regalone il compleanno di Tiago Motta il compleanno di Tiago domani ragazzi e arriviamo col pacco belogrosso eh spielo lui lui ci ha dato i sei punti noi arriviamo col pacco tac direttamente compleanno di Tiago Motta e banalmente anche penso di migliaia 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 di altri esseri umani tra cui sottoscritto quindi domani domani grande giornata eh domani è veramente super teon copminers mister parto da te perché serve copminers? perché ci sciogliamo all'idea che sia copminers ad aggiungersi a questo impianto ve lo voglio chiamare impianto che abbiamo intravisto in queste due partite sei gol fatti zero subiti e dove va copminersi in questo mondo come tutti gli altri giocatori devono essere pronti a fare più ruoli quindi copminers potremmo vederlo dietro la punta magari in un sistema come quello di ieri con 4-2-3-1 potremmo vederlo a fare il mediano potremmo vederlo a fare la mezzala di inserimento quando giochiamo 4-1-4-1 può fare tante cose però lo fa con grande qualità e avremo un centrocampista che segna i gol che segna tanti gol almeno fino adesso li ha sempre fatti speriamo continuerà a farli però è un giocatore che incide col tiro da fuori con il passaggio dentro l'area quindi è un'arma in più ma mister ma secondo te potrebbe anche essere una risorsa adesso nel caso come addirittura arretrandolo in alcune occasioni a difensore centrale beh lui in Olanda ha fatto il difensore centrale quindi lo sa fare però non penso che la Juve prenderà il dino no no beh infatti però dico all'occorrenza se in emergenza se probabilmente uno potreste farlo giocando però spero di no io spero di vederlo di vederlo più vicino possibile alla porta ecco allora buttate no scusate buttate fuori me cosa stai a dire ma ho detto una cosa che poi era vera alla fine ma guarda che sono una roba incredibile vuoi aggiornare allora torniamo anche su Combinas velocemente colloquio in corso in questi minuti tra il Manchester United della Juventus per Jadon Sancho Sancho aperto al trasferimento Juve a colloquio con le agenti del giocatore il contratto è già stato in qualche modo definito il contratto potenziale con Sancho il tema è ovviamente la disponibilità all'United da venire incontro a una situazione che si è manifestata attraverso anche il giocatore in maniera nitida cioè Jadon Sancho vuole la Juventus vuole questa esperienza la Juventus già a gennaio ci sono stati i contatti proprio sull'asse Juventus giocatore molto molto forti molto molto stabili inizio luglio sapete tutti com'è andata chiesa la Roma poteva essere già il motivo per sbloccare il suo arrivo anticipato all'epoca lo United viveva Sancho come un super problema poi in qualche modo ha cercato di nascondere il problema sotto il tappeto ma la questione non si è per nulla risolta e oggi torna a essere per loro il grande problema di due mesi fa di otto mesi fa quindi Juventus che ha preso in mano la situazione col giocatore e che aspetta quindi di capire la vera disponibilità del United alle condizioni della Juventus dentro però e lo dico subito poi Edo tocca a te il Manchester non retrocede di un passo io lo trovo sensato sul fatto che ci sia un obbligo di riscatto all'interno della struttura dell'operazione ovviamente condizionato ma non tra un anno ci riparliamo già nell'accordo originario il prestito con diritto non basta per arrivare a Gedeon Sancho allo United la penultima parola perché in realtà poi sarà la Juve che dovrà fare questa valutazione perché facendo quel tipo di prestito con l'obbligo la Juve deve già strutturare questo può essere il motivo del perché c'è un fitto dialogo con gli agenti di Sancho anche se con Sancho l'accordo c'è da diverso tempo cioè il fatto che tu devi già strutturare il contratto l'eventuale contratto a titolo definitivo non so se mi spiego i regolamenti dicono questo se tu fai un prestito che ha un riscatto con l'obbligo di riscatto in orizzonte devi già anche concordare il contratto futuro eventuale del giocatore e questo secondo me è un nodo lo dicevo ieri lo accennavo è un nodo importante perché è lì che la Juve dovrà mettere i paletti potenziali dei costi effettivi di un eventuale Sancho che arriva a Torino e fa bene a Torino perché se fa male e non gioca mezza partita e fa là nel caliturno adesso faccio un caso estremo tornerà da dove è venuto ti è costato e pace ma il costo quindi Scanavino dov'è la Biro? ecco è Scanavino quello che poi è avalla o non avalla il globale dell'operazione che è un globale potenziale ma che tu stipoli già in qualche modo Edoardo aggiornaci la percentuale Sancho ieri era a 95% ah e questa qua allora le percentuali sono roba tua non devi chiedere a me 96,7 calibrato quindi sì sì perché allora Sancho vuole la Juve la Juve in realtà messo come Sancho ma già a gennaio è una priorità per tutti alla Juve è chiaro mi pare di capire che sia molto giuntoliana questa idea sì sì devo dire che è una sua è una sua è una sua è come quando Paratici si fissò con Tevez però io devo anche dire una cosa adesso poi voi siete più esperti di me ma vedendo giocare la Juve ieri sera un Sancho in forma voglio dire voglio dire capisco anche giuntoli a quel punto scusate poi è chiaro che è di peso molto dalla trattativa di Chiesa nei mesi passati perché a quest'ora Chiesa partita ancora aperta con Liverpool che si è inserito alla grande vediamo sì si è inserito però probabilmente c'è più una volontà della Juve di sperare che ci sia un'asta più che perché comunque il Barcellona nella definizione di tutto prima della strategia e tutto comunque non andava oltre una determinata cifra se si scatenasse un'asta effettiva quindi bisogna vedere se poi dal Liverpool ci sia un interesse concreto magari se dal Barcellona l'abbiano già blindato stiano veramente solo aspettando di fare le uscite che devono fare quindi sbloccata con la situazione lì probabilmente staremo parlando di un Sancho che ce l'avremmo già da luglio con Chiesa adesso è diventata una situazione diversa per il momento non si è inserita nessuna squadra con i soldi immediati che avrebbero fatto molto piacere allo United e quindi la Juve potrebbe diventare in questi ultimi giorni di mercato potrebbe diventare un'occasionissima anche per Sancio perché comunque hai detto 96 virgola adesso no ma io ti racconto ma no ma ti racconto lo sviluppo che è stato con Chiesa che va via a fine giugno noi Sancio ce l'avremmo già ad oggi secondo me secondo me si va con il diritto di riscatto che diventa obbligo l'hai sentito Edo con le tue orecchie ha detto Alberto Edoardo ha detto con la Juve che ha visto ieri Giuntoli l'idea di poter mettere ok Nico ok Cico ma Cop Cop per Giuntoli ecco diciamo questo c'è Giuntoli a due ossessioni Copmeiner e Sancio ma per quello che hai visto tu ricordiamolo e Panno sarà il Bente Godi con cosa ne è uscito Giuntoli guardandola dall'alto la squadra io non so cosa ne sia uscito lui con cosa ne sia uscito lui ma so con cosa ne sono uscito io con un'impressione fantastica di una squadra bellissima anche così è ovvio che poi servono degli altri giocatori ma ieri oltre ai tre nuovi acquisti mancava anche Douglas e mancava anche Turam che sono dei giocatori fondamentali per questa squadra quindi io mi ritrovo in una situazione provo a descriverla come quando a Natale sotto l'albero trovi il pacco e volevi la pista polistil e il primo pacco che apri è la pista polistil e poi arrivano tutti altri regali bellissimi mi state parlando di Sancio di Cotto ma non te ne frega nulla ma ormai c'ho la pista polistil e quindi io godo di questa cosa qua tutto quello che arriva dopo è sempre più bello però la cosa importante è vedere questa Juve così e quindi grazie grazie che mi date tutti questi queste notizie però dico anche a Panos scusa dico anche a Panos che mancava UEA che comunque in questa Juve Tiago Mottiana mi sembra comunque un giocatore in cui si vuole si vuole puntare e Azic e Azic sì 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 ma va benissimo chiaramente Sancio e Copp sono ancora oltre UEA e Azic è tutto bellissimo però la cosa più importante io in questo momento la sto vivendo e sono veramente emozionato e spero di darvi la mia emozione perché perché sto proprio bene allora velocemente faccio un insert ossessionato dalla Juve ha regalato 5 abbonamenti quindi ci sono 5 persone almeno che da questo momento possono non solo godere dell'esperienza Juventus in tutto e per tutto senza la rottura delle pubblicità ma possono anche scrivere qua quindi se qualcuno di coloro che ha ricevuto la mia emozione vuole scrivere qua io sono un fortunato lo scriva poi la seconda cosa che voglio fare è ringraziare Claudio ringraziare Yugogo il Montermottiano Silvia Silvia Sfe 19 mesi con noi Schiavo Libero Gianmatex Luke Giuntoli Ivan Pan Danmes Bassi Manolesta 14 mesi e in ultimo un veloce test perché io ogni tanto mi chiedo ma davvero questo è un canale alla fine fatto solo di di boomer o generazioni X cioè Robert allora scriva qui sotto in chat no deve solo scrivere no se se tu non sai cosa cosa sia una pista polistica cioè se no se dici ma che ma che lingua parla Panos devi scrivere no non so no è perché se sono tanti no e allora questo è un canale anche per giovani per giovincelli per generazioni che costruiscono il nuovo mondo un mondo più bello Feel the Pain Totoroto Vamoraga Leo Peri ma siete così giovani io faccio sempre tutti vecchi invece guarda no Zaratustra vale ti trollano ti trollano dai la pista polistica sì sì sono tutti troll dite che sono tutti troll in qualche maniera saranno venuti in contatto con questa pista 8 ma non ci credo intanto chi batte tutti è quello che scrive io ce l'avevo con la versione con Niki Lauda quindi gariffo se la ride però è così ragazzi pista polistica fa venire i brividi a Zendali Stanato che bello io perplesso come Mecca da soap sei perplesso Mecca no no assolutamente anzi io ancora negli occhi la splendida prestazione anzi vi devo dire vi devo dire il grande merito di questa Juve qua di inizio stagione che ho già voglia di rivederla ho già voglia di rivederla in campo fate la clip di questa frase al minuto 20 forza clip è bella è una frase che mette insieme tanto giusto Giuseppe l'hai pensato uguale l'hai pensato uguale ma ieri sera al 51esimo la pressione 120.75 al 51esimo quando la pressione nostra era bassa no la pressione proprio del tifoso che guarda la partita tranquillo finita non vorrei cadere io nel nel trappolone perché si sa ci sono per adesso le vedove che sono giù diciamo i haters quindi non carino in questo però no infatti assolutamente no però una cosa mi mancava tantissimo perché io sono cresciuto ero un adolescente un giovane adolescente con la Juve di Lippi e il marchio che ho sempre riconosciuto è la Juve che quando la Juve perdeva palla andavano in tre a riprendersela a ripristarla e a ripartire faccia alla porta subito veloce verticale a me non mi frega niente che la Juve giochi bene che giochi male interessa che vinta però io sono cresciuto con questo concetto di Juve cambiamo i giocatori ma la mentalità era quella lì si andava a ringhiare sull'avversario a riprendersi la palla e si ripartiva in verticale io non ce la facevo più a sostenere la mancanza di questa cosa quando guardavo la Juve ed è bello spero che continui così adesso per esempio alcune domande me le faccio perché non è che non abbiamo ancora annunciato Coppa Enex e sembra passato di moda già parliamo di Sancio no vorrei far notare che tre ore fa tre ore non tre mesi tre ore fa abbiamo annunciato Francisco Consessa alla fine si giocherà in undici comunque perché ora voglio parlare anche di Advic c'è Bangula che è poverotto se arrivano tutti questi qua dove ha trovato il suo spazio forse da qualche altra parte in prestito non lo so però al di là di chi sarà in campo vedere la Juve con questo concetto con questa attitudine mi fa impazzire non vedo l'ora neanche io di torno a vederla anche perché domenica sono allo stadio allora veloce botta e risposta ho un palleggio un rimpallo con palleggio tra il mister e Panos perché se no ragazzi veramente facciamo male il nostro mestiere di talk sulla Juventus spendiamoli 4-5 minuti quello che vogliamo su Francisco Consessao perché poveraccio lo dico per il dibattito è finito in mezzo al dritta carne perché è stato il weekend di Nico in qualche modo Nico se l'è preso il suo spazio la Juve non giocava il Milan le ha prese ci siamo divertiti Nico eccetera Consessao è finito lì in mezzo tra il volo da Manchester con la delegazione di United mentre giunto lì era seduto nella sala del tè del Bentegodi il caso che è montato improvvisamente l'Atalanta apre per Copp Miners quando sapete che la big story è un po' più è stata ormai sviluppata nell'ultima settimana in un certo modo fino alla Prodo oggi tutti confermano che ovviamente c'è stata la formalizzazione tra i due club quindi la questione con Miners la Juve prima in classifica sei gol cioè con sei sa chi se ne frega però io mister e Panoz Panoz e mister un palleggio su Francisco con sei sa lo vogliamo fare? cioè te lo sei mister tu avevi già l'idea del giocatore che non è un porto nazionale ma te lo sei anche un po' riguardato nel mentre hai già immagine di lui in questa Juve e poi Panoz che invece ovviamente penso lo seguisse già da parecchio tempo sì sicuramente lo conosce meglio di me io per quelle volte che l'ho visto giocare è un giocatore velocissimo mancino che gioca principalmente a piedi invertito rapido veloce tecnico secondo me è un giocatore che potrà tornare utile non solo dall'inizio ma anche a partita in corso a spaccare le partite entrare saltare l'uomo mettere in crisi le difese già provate da da chi probabilmente occuperà il posto prima di lui ecco mi sembra quel tipo di giocatore cioè in un'ottica di rotazione degli esterni in modo tale da tenerli sempre freschi e decisivi nell'uno contro uno ecco lui mi sembra ecco l'azione del terzo gol che ha fatto Mangoulat me la immagino dall'altra parte di di Kosei Sao cioè il puntare l'uomo fare le finte entrare uscire e poi ne parlavamo anche nel pre partita Kosei Sao è anche un giocatore tosto è uno che che lotta che quindi fa è bravo anche a fare la fase difensiva e quindi secondo me sarà molto utile per la Juventus Palos allora il mister mi ha quasi tolto le parole di bocca io ho contattato il mio collega portoghese per saperne di più in questi due giorni e il mister ha fatto un ritratto assolutamente conforme a quello che è Francisco Kosei Sao un giocatore che ha nella fantasia cioè nell'estero nella capacità di fare cose straordinarie fuori dal comune la sua dote migliore oltre al dribbling cioè a parte il dribbling cioè di pensare qualcosa fuori out of the box e quindi è perfetto per entrare a partita in corso vabbè chiaramente puoi giocare a titolare ma vista l'abbondanza che abbiamo secondo me Francisco negli ultimi 30 minuti può fare veramente la differenza poi ha detto benissimo perché il coraggio l'aggressività del giocatore fanno anche fanno parte del suo bagaglio quindi è un giocatore che non sta lì forse diciamo magari un po' poco associativo questo sì però con Tiago Motta può entrare benissimo negli schemi della squadra però è uno che ha garra che quindi va a combattere se perde il pallone va a recuperarlo quindi sicuramente questa è un'altra dote che ha Francisco Konsei Sao io sono più che contento di tutto lo voleva l'Ipsia ed è vero sì sì poi hanno preso Nusa loro che ha esordito anche bene un altro bel colpo 20 milioni in Nusa sono tutti giovani molto molto interessanti è un buon indizio è un buon indizio che lo volesse l'Ipsia che ha preso anche Vermeiren ne parlavamo l'anno scorso Atletico Madrid Future Stars intanto scusa dedico veramente due secondi a Future Stars perché io ho una buona memoria Future Stars ha passato l'estate a infamarmi in questa chat mi diverso ma bene ma ogni giorno ma 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 simpaticissime ma perché lui alla fine ama questo canale e io amo quelli come Future Stars e va benissimo così ragazzi intanto Edo con Seisau a 374 di RT e se lo ricorda Lele e applauso al pre partita Juventus. Vediamo che faccia anche 374 RT, cioè reti, però magari allora io vorrei dire questo poi andiamo su attenzione attenzione vai Mecca vai stiamo parlando di acquisti Juve, Cop Miners Grand Acquist, io veramente lo dicevamo anche ieri non mi sarei mai aspettato in un anno di vedere Douglas Lewis, Turam, Cop Miners col centrocampo che avevamo fino a tre mesi fa, quindi se me l'avessero detto. E che vorrei dire che è il centrocampo che ha giocato ieri, meno rabbia esatto, esatto, quindi non me lo sarei mai aspettato, però ragazzi dobbiamo dire la verità, poi daremo i voti del mercato tra tre giorni e tutto. No ragazzi, no regina del mercato no, eh no, daremo i voti daremo i voti del mercato ma se mi chiedete il miglior acquisto della Juve, io non ho dubbi che è stato criticato nel dire che è Cristiano Giuntoli che in un anno è riuscito a fare in un anno è riuscito a fare una roba, ragazzi, che noi col lavoro che c'era da fare dietro era inimmaginabile, quindi venitemi a dire quello che volete però no, 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 ma io colgo questo assist, eh Giuseppe cioè, quello che dice Edo ha, a livello oggettivo secondo me un riferimento che io ho chiaro in testa, cioè è clamoroso il ribaltone da due mesi e mezzo a questa parte ma non si parte ovviamente c'è il ribaltone giuntoli a le persone di sua fiducia intorno che non c'erano fino a due mesi fa Pompiglio, Stefanelli ah, l'allenatore che desiderava ha cambiato mezza squadra per usare un eufemismo e ancora sta cambiando dal portiere il centrocampista cioè cioè Rabiot era il migliore cioè è radicale la Juve Giuseppe quando si affaccia a cose radicali non sempre è pronta questa io non voglio infatti non uso radicale uso clamoroso secondo me è ben oltre tutto quello che ci aspettavamo come quante volte abbiamo detto o ci siamo detti o abbiamo sentito dire a un amico non può fare tutto subito diamo tempo qui ha fatto tanto subito troppo? ma no allora guarda ovviamente sarà il campo a parlare però a me piace tantissimo il coraggio di questa sessione di mercato e da di un momento si è deciso che c'erano una quindicina di calciatori che non facevano parte del progetto e non avrebbero fatto parte del progetto nemmeno se se non fossero arrivati gli acquisti che poi sono arrivati a costo di perdere ovviamente più infatti l'esempio più lampante è Federico Chiesa l'unico ripensamento è stato forse sulla questione Miretti e McKennie probabilmente poi per il resto si sono centrati gli obiettivi adesso forse ne manca uno anche se non dovesse arrivare Sancio adesso non è che dobbiamo essere insoddisfatti perché non arriva Sancio secondo me però è stato con coraggio dichiarato un obiettivo un target lo si è raggiunto adesso parola al campo nel senso che sta passando un aereo da qualche parte nel senso che adesso non ci sono alibi per nessuno tutto questo è avvenuto tra l'altro mi piace pensare in perfetta sintonia tra il direttore sport generale e l'allenatore quindi seguendo le richieste dell'allenatore da questo momento parola al campo è zero alibi è chiaro che sarà un progetto che nasce quest'anno non possiamo pretendere subito di vincere lo scudetto però senza lo diciamo anche per scaramanzia quello che è giusto è giusto quello che è di Cesare è di Cesare la breaking news confermata a livello trasversale è questa ve la raccontiamo e la commentiamo in diretta lo facciamo un giro veloce assolutamente meritato qualcuno dice anche meriterebbe comunque un saluto allo stadium lui ha messo anche un like a quel commento parlo di voi che annuncia o fa sapere ufficialmente che si ritira dal calcio professionista perché dicevo a Cesare quel che è di Cesare non solo a Cesare quel che è di Cesare la gestione del dopo Buffon e dei momenti anche epici con lui dei momenti non semplici da cui si è tirato sempre su alla grande ma Cesare quel che è di Cesare perché ah ah sul fatto che Cesare aveva in mente di tirarsi al calcio ve l'avamo detto noi ma dicendovi attenzione perché questa di Cesare è un problema potenziale perché lui ha programmato di smettere col calcio a fine contratto con la Juventus quindi 2025 ok questa situazione della Juventus apre a una riflessione sua c'era la rabbia c'erano altre soluzioni il Monza il Leicester particolare a Cesare quel che è di Cesare in questo caso lo do ad Angelini perché Antonello arrivo qua tre settimane fa e disse succesne vi dico che seriamente è un'ipotesi molto seria la sua riflessione su lasciare ritirarsi e le offerte le ha e le offerte le ha Cesne quindi smette anche con anticipo rispetto al a quello che era nei suoi programmi ma che evidentemente era già un orizzonte di vita che aveva messo in preventivo spendiamo le due parole chi vuole partire Giuseppe faccio partire te che comunque allo stadio ci sei andato tanto ancora negli ultimi anni Cesne non è entrato nei cuori tecnicamente come i grandi portieri della Juve ma come personaggio ha avuto il suo perché e anche come pare Cesne è quello che ha chiuso la carriera di Higuain con rigore parato a San Siro finita la carriera di Higuain sono 5 o 6 vittime di Cesne me le ricordo che hanno chiuso la carriera guarda io però posso dire che secondo me la cosa più grande di Tec è che noi abbiamo salutato una leggenda assoluta della storia della Juventus ma dalle storie del caos e quasi non ce ne siamo accorti cioè da un punto di vista del deficit tecnico non ce ne siamo accorti e questo è un merito per Tec a parte quelle due tre partite d'inizio nella prima stagione del ritorno di Allegri dove fece qualche papera un po' ma si è ripresa alla grande anche a quel momento da un punto di vista dell'uomo spogliatoio della capacità di interpretare al meglio lo spirito Juve davanti alla telecamera secondo me perfino superiore Gigi Buffogno non me ne voglia nessuno ricordo alcune anche battute una grande ironia ricordo la battuta sul cartellino rosso a Miluk contro l'Empoli dove disse giustissimo come quello che hanno dato al Genova contro di noi la settimana scorsa mentre al Genova non era stato dato nessun cartellino rosso se ricordate quindi un uomo di grande spessore viene ricordato così ma è stato anche un grande portiere e poi tanto di cappello per la conclusione di questa avventura mister allora dal punto di vista tecnico vogliamo tornare anche sulla sliding door di Giuntoli rimarrà nella storia che Giuntoli ha chiuso la carriera di Scesi per questa cosa resterà che la scelta di Giuntoli così drastica così frontale così netta così voluta da Giuntoli pro di Gregorio prima che anti Scesi comunque ha condizionato il finale e vogliamo tornare anche su questa riflessione sulla scelta della UN hanno fatto una scelta tecnica io poi non so quanto sia stata influenzata dal contratto visto che aveva ancora un anno però è stata fatta una scelta tecnica secondo me è giusta perché nel momento in cui inizia un nuovo ciclo è giusto cominciare anche con un portiere nuovo Scesi avrebbe appunto smesso l'anno prossimo ecco e invece si comincia un ciclo e si parte da un portiere nuovo bisogna sicuramente Scesi merita un tributo da parte di tutto il mondo Juventus perché è stato un ottimo portiere una brava persona intelligente sempre misurata nei commenti io invece ricordo dopo la Fiorentina abbiamo avuto 89 minuti di difficoltà che ha fatto sorridere tutti e detto appunto col sorriso sulle labbra tranquillo sereno ricordo anche la battuta di Allegri Scesi non parla bene l'italiano tutte queste o non lo capisce bene insomma ma comunque è stato un portiere importante che ha vinto tanto la Juventus e lo ricorderemo così come nella tradizione dei grandi portieri della Juventus messaggio è piuttosto lungo in inglese ma lo leggo lasciato Varsavia scrive sui propri profili social la mia casa nel giugno del 2006 per raggiungere e unirmi all'Arsenal con un sogno di vivere di calcio non sapevo ovviamente che quello sarebbe stato l'inizio di un viaggio lungo una vita e neanche sapevo che avrei giocato per alcuni tra i più grandi club del mondo e di aver rappresentato la nazionale polacca per 84 volte non sapevo che che questo gioco sarebbe diventata la mia intera vita sono arrivato dove l'immaginazione neanche osava arrivare la mia immaginazione ovviamente ho giocato ai massimi livelli con i migliori giocatori della storia senza sentirmi mai inferiore o di meno ho creato delle amicizie che dureranno una vita mi sono creato dei ricordi indimenticabili ho incontrato persone che hanno avuto un impatto pazzesco sulla mia traiettoria tutto quello che ho e tutto quello che sono lo devo al calcio ma ho anche dato tutto ciò che avevo ho dato 18 anni della mia vita tutti i giorni senza scuse oggi nonostante il mio corpo si senta ancora tutto sommato bene e persin pronto per delle sfide il mio cuore non è più qui my heart is not there anymore non è più lì nel calcio non è più lì nel campo credo e sento che sia esattamente il momento per dare tutta l'attenzione alla mia famiglia la mia splendida moglie Marina e ai miei due stupendi bambini Liam e Noelia ecco perché ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico voi c'è scesi grande grande tech io tra l'altro ho già commentato perché ho già commentato anche il post su Instagram di Scesi perché bisogna essere multimediali mentre qua siamo concentrati no allora quando io quando io e Massimo abbiamo deciso ok abbracciamo abbracciamo la piattaforma viola la prima cosa che mi hanno detto è sappiatelo su quella roba lì vale tutto vale proprio tutto vale tutto guarda che cacchi suoi prego no allora Scesi veramente il fatto di aver comunque giocato alla Roma da back di Alisson e alla Juve da back di Buffon per poi prenderti una titolarità incredibile di aver lasciato il segno in tutte le squadre dimostra non solo la forza del portiere perché a me non ha fatto mai il back di Alisson non era ah no ha sostituito scusate scusate l'ha panchinato l'ha panchinato ah no infatti mi ricordo che però c'era questo questo dualismo sta a dimostrare intanto la forza del portiere perché era un grande portiere perché adesso al netto di qualche errore che fanno tutti nella propria carriera però abbiamo avuto un grandissimo portiere una persona intelligentissima e se ne va veramente un pezzo di storia della Juve quindi merita merita assolutamente la secondo me a mio avviso la standing ovation allo stadium poi sul fatto che come ha detto il mister si riparta da un da un progetto nuovo anche da un portiere nuovo secondo me in questo caso anche in questo caso la la scelta è stata giusta e poi è anche vero che un portiere come Di Gregorio probabilmente a quella cifra lì lo prendevi adesso il prossimo anno magari non più cioè una scelta solo cinica quella della Juventus è stata ti chiedo Panos ma no cinica intendo dire l'abbiamo comunque messo a spalla al muro la scelta l'ha messo a spalla al muro poi attenzione questo aneddoto ve l'ho raccontato e secondo me è uno snodo che ha una sua sfumatura importante quando scese rientrato tra i primi dall'europeo rientrato virtualmente cioè che aveva la convocazione sostanzialmente per continuare era nei giorni immediatamente precedenti c'erano tutti coloro che sono arrivati a ridosso del ritiro in Germania tutti coloro che erano stati eliminati nel girone sostanzialmente i serbi lui eccetera la Juventus che con lui aveva già comunicato preso la decisione aveva già preso di Gregorio e tutto a lui e unicamente a lui tra quelli fuori progetto ha aperto le porte del ritiro ha detto Scesni vieni con noi non c'è preclusione poi lui ha chiesto di rimanere a Torino era una fase di riflessione valutava delle offerte eccetera e quindi la Juventus comunque ha cercato a coscienza della figura Scesni quindi maltrattato calcisticamente per una scelta cinica non lo so Panoz voglio sentire ma non maltrattato a dirgli stai a casa e non venire al campo ecco Alberto a me non sembra una scelta cinica mi sembra una scelta condivisa da tutte le parti che alla fine va bene per tutti la Juventus aveva scelto di iniziare con un nuovo portiere e lui probabilmente non aveva nemmeno troppa voglia di fare il secondo di andare a provare altre esperienze per un anno quindi poi si sono trovati d'accordo su una risoluzione del contratto con una buona uscita quindi secondo me è quello tutto bene Scesni è stato un bel portiere della Juventus io personalmente gli do sette come carriera e non è entrato nei miei cuori io lo devo dire sinceramente come lo sono entrati Peruzzi Tacconi Zoff Buffon chiaramente è un portiere che forse io vado a identificare con la fase dei cinque anni degli scorsi cinque anni senza Scudetti scusate il primo c'aveva lo Scudetto ma c'era Sarri che è stata una fase per la Juve secondo me che io ho vissuto con poca emozione e quindi e c'erano poche figure a parte Cristiano che mi hanno dato una particolare emozione quindi grande portiere bravissimo ha fatto la sua carriera perfetto giusto la stand innovation nello stadio perché ha dato tanto per la Juventus poi finisce lì cioè non è stato uno che mi ha acceso il cuore tutto qua questa è la pur riconoscendone chiaramente le sue doti mister sì sì no l'ho detto prima mi sono già espresso prima su su Scesni ha vinto ha vinto tanto è un portiere che secondo me comunque rimane nella storia dei grandi portieri della Juventus e poi cosa deve fare Di Gregorio a questo punto qual è la mission di Di Gregorio a questo punto dai attualizziamo un attimo tutti secondo me l'aspetto di Scesni che va sostituito principalmente è la sua attitudine alla leadership comunque in una squadra i leader ci vogliono che non è di Di Gregorio che non è di Di Gregorio che non è di Di Gregorio che altre qualità eh appunto quindi comunque questa cosa non la sostituisci facilmente ma lì tecnicamente lo sostituisci bene Scesni in portagon di Gregorio sull'aspetto della leadership in campo e cioè fuori dal campo e in campo e lì spero che ci siano altri a sostituirlo io vedo molto cresciuti da questo punto di vista in queste prime uscite stagionali Locatelli e Blauic spero che possano prendersi più responsabilità e che anche qualcuno dei nuovi possa mostrare al di là che è in campo una forte capacità di leadership perché io credo che ci sono degli aspetti che fanno capo al gruppo che poi sembrano non calcolabili sembrano immateriali però poi contano di Gregorio mi ricorda che mi ricorda mi ricorda un po' Peruzzi che io adoravo quindi io auguro a Di Gregorio la carriera che ebbe alla Juve il buon Tyson Peruzzi però mi è magari però da quando l'ho visto mi è piaciuto molto una grande reattività anche io ieri sera fa una parata non facile ieri sera nella noia a Mortegu non gli arriva un tiro in porta quindi anche quello è un segnale che comunque sulla concentrazione del portiere nel secondo tempo fa una parata non facile la fa quella di piede sotto porta all'ottantaduesimo verso la fine ma la palla filtrante dentro che è scivolato lui e sono andati il primo tiro che ci hanno fatto in queste due partite tornando sulla leadership secondo me Doc ha ragione che in questo momento non non è ancora la leadership ma ricordiamoci tanti portieri lo stesso Peruzzi ma lo stesso Scesni cioè di Scesni ci ricordiamo l'ultima fase dove chiaramente era un leader all'interno di uno spogliatoio secondo me con pochi leader e questa è stata una delle colpe della Juventus degli ultimi anni di non avere dei leader come aveva ai tempi di Bonucci Barzagli Chiellini Pirlo eccetera eccetera quindi Scesni ce lo ricordiamo così alla fine dove sicuramente era un leader secondo me di Gregorio in silenzio come ha fatto Peruzzi a tutto il tempo di prendersi la Juve come portiere e ce lo auguriamo tutti Allora io voglio salutare Manni Gol che scrive su cinque cose che dice edo quattro sono una massima e una è una cazzata e poi la differenza tra banalità e cazzata sarebbe interessante questo mi ha fatto molto ridere a proposito di leadership io non sono così sicuro che Danilo rimanga alla Juventus Allora vi racconto un aneddoto di ieri sera visto che questo non l'hai visto e io sono rimasto nello stadio nel settore ospiti fino alla fine quindi mi sono visto cos'è successo alla fine Allora parto da il coro per McKennie anche bellissimo il coro per McKennie a parte il coro che non ripetiamo qua in diretta perché allora come al solito defaticante per quelli che hanno giocato poco corrono Douglas un pochino svogliato ma poi alla fine scusa Luca stavo raccontando il fine partita di ieri sera che nessuno ha visto dal settore ospiti visto che quello con Danilo protagonista esatto Danilo e McKennie cioè defaticante per tutti poi alla fine rientrano McKennie secondo me questo un grosso messaggio dato dal dallo staff secondo me anche i tifosi McKennie tu stai qua e ti fai per un quarto d'ora avanti indietro su tutto il campo lui partiva si faceva 100 metri tornava indietro alla quinta volta ovviamente i tifosi cominciavano a fare oh quando McKennie arrivava verso il fondo verso la curva e McKennie salutava entrando in empatia chiaramente con il pubblico poi il pubblico ha fatto anche dei cori per McKennie che non stiamo qua a ripetere perché ricordavano diciamo quelli di Berlusconi ai giocatori del Monza mettiamolo così ok mettiamolo così nel mentre poi McKennie va negli spogliatoi e resta Danilo un Danilo che mi è sembrato un po' fuori dal da tutto quasi come se volesse dare un addio ma questa ovviamente è una pura sensazione però lui ci teneva ci teneva tantissimo e quindi stava lì sperando che arrivasse qualcosa poi la curva l'ha salutato vieni sotto la curva lui è venuto sotto la curva salutato ed è di nuovo si è vista empatia con Danilo che mi è sembrato un pochino meno capo progetto rispetto a prima questa è quella e quindi cercava in qualche maniera di farsi abbracciare dal pubblico che ovviamente l'ha abbracciato queste sono le sensazioni le mere sensazioni che io ho colto ovviamente allo stadio che sono mie e vi riporto non non è un grande feeling ve lo dico anzi secondo me non con i tifosi no 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 ecco ecco non basta non basta il livello il livello atletico di Danilo non basta sono due anni che giochi così sì con me non giochi così bisogna dare fare di più dare di più non è solo una questione di ritardo della preparazione da questo punto di vista è una situazione che ovviamente essendo il 27 di agosto fa un po' specie stare lì però secondo me spunta qualcosa ma scusate ma scusate attenzione attenzione a me è stato segnalato lo dico Pannos è una persona ecco perché avevo capito dove volevi arrivare che era presente lì un collega che ha un occhio clinico per queste cose aveva notato prima chiamiamolo defaticante giusto per intenderci aveva notato che Danilo era molto seccato dal fatto che gli fosse stato detto perché lui è entrato che gli fosse stato detto di dover fare defaticante ora un giocatore modello uno che fa da esempio quello che c'è passato e che ha provato sicuramente a essere sempre Danilo soprattutto negli ultimi due anni non fa non si atteggia non fa storie c'è defaticante dentro posso dire non me l'aspettavo ma lo faccio lo faccio perché domani starò meglio di oggi e lo staff vedrà che sto dando tutto e perché io gioco titolare e mi riprendo la fascia magari anche qualche volta succede ieri quando è entrato la presa va bene quindi a questo punto di vista altra cosa che mi ha cioè soprattutto questo a me non l'ho spiegato e fatto notare molto contrariato visibilmente contrariato e seccato e con l'atteggiamento un po' come dire palle di dover fare defaticante questo è quello che mi è stato segnalato e ovviamente ha catturato molto l'attenzione della persona con cui ha parlato perché è rimasto stupito la persona che mi ha parlato era stupito della cosa quindi si aggiunge a questo ulteriore racconto che tu hai fatto e rende molto particolare la posizione attuale di Danilo all'interno dello schema Juventus che sta costruendo Tiago da questo punto di vista non è nuova questa cosa per voi lo sapete qui sul canale avevamo già fatto cenno ad alcune criticità sul fronte di un giocatore che abbiamo sempre pensato fino a tre settimane fa come un titolare chiunque di noi faceva il campetto metteva Danilo terzino centrale Danilo capitano addirittura non abbiamo neanche pensato ci potesse essere una discussione e invece è Gatti l'attuale capitano scusate ragazzi ma anche se abbiamo visto le prime due partite ma l'idea è già chiara di quello che è arrivato un messaggio attenzione vai vai finisci Edu no dico per sostenere delle richieste simili ma tu devi essere in condizioni fisiche incredibili se non giocare anche Douglas Lewis come abbiamo visto e poi cavoli devi avere una concentrazione massima ma guardate scusate Gatti adesso Bremer non è ancora al 100% ma sono in condizioni psicofisiche anche di concentrazione durante la partita guardate Cabal Terzino Cabal Terzino ieri sera faceva tre ruoli idem l'altra volta cambiaso ieri sera mi ha stupito incredibilmente per quanto a me piacciono i giovani adesso ok andiamo stiamo cauti però Savona ieri sera mi ha dato vibes belle forti di giocatore che possa essere che possa proiettarsi veramente nel futuro però cavoli è gente che martella io vi dico che banalmente di pressing che da casa gli dicevo vabbè adesso fermati ma sull'occupazione del campo dei laterali eccetera bassi chi entra dentro il campo perché ha quelle caratteristiche chi va sul binario ieri persino non so ecco Pano su Savona visto dal campo ma io ti chiedo anche il break che abbiamo intravisto di Calulu anche anche sì sempre altissimo sempre pronto ma poi pronto a rientrare con smalto con smalto e sta bene Calulu è un giocatore serio ragazzi secondo me molti milanisti dopo aver visto Emerson Royale sono ieri perché l'abbiamo preso tra un giorno con il tifone della situazione di turno perché ce l'avevamo fatto la bocca a Calafiori poi Totibor anche se personalmente non ho mai visto giocare Totibor all'inizio quindi me lo ricordo agli esabili nel Barcellano non è esattamente un'aguila però però Calulu siamo tutti così perplessi perché viene da un anno di problemi fisici Calulu dell'anno dello scoletto al Milan io ricordo un giocatore magari tornasse l'80% di quel Calulu intanto attenzione perché l'infortunio che era accorso Calulu e che sul quale poi è stato tante lungaggini anche una recidiva sì però è molto particolare che è un muscolo che lega l'anca cioè me l'hanno spiegato comunque è un infortunio veramente di quelli di quelli che ti creano grandi problemi infatti grandi problemi ma anche ma anche cicatrice banalmente una cicatrice importante intanto attenzione perché mi viene scritto che retroscena Sancio era già sostanzialmente stato preso a gennaio pronte le visite bocciato d'Allegri sì ponte qua io la ricevo qua la fonte è di Giovanni Albanese no è una fonte super partes super partes è vero questo è vero a me sembra incredibile poi poi Sancio poi Sancio a quel punto ha ripiegato sul Dortmund però attenzione però perché la Juve ci prova ovviamente segreto di Pulcinella la Juve ci crede ma Giuntoli è chiamato qua a fare un capolavoro cioè senza quasi un euro da aggiungere al budget se non con evidentemente un uscito cioè c'è il piccolo fagottino chiesa perché non è che se risparmi 23 milioni a bilancio e ne prendi 10 13 quello che è allora hai il tesoretto però si libera una risorsa di 6 7 8 milioni spendibili subito da un'eventuale uscita di chiesa con quei soldi lì devi prendere Sancho con una formula che ovviamente ti impegnerà per il futuro e pare e pare che ci sia la breccia la breccia per il capolavoro oltretutto è normale che lo United e allora dritti dritti e scollidiamo Sancho se non sbaglio Vasca sei contratto 2026 è tanti anni che non viene su Juventus se non sa che qua non siamo più seri come una volta succede di tutto non è vero è certo di fare il serio perché mi ricordavo che Sancio scade nel 2026 quindi è normale che il Manchester United o lo vende adesso o dovrà svenderlo mi chiede l'obbligo però mi chiedo Sancio se non sbaglio Sancio Nico Gonzalez con 6 Sao e UEA partono tutti a destra quindi a sinistra che è la vera alternativa Nico può giocare anche a sinistra l'abbiamo visto tante volte a destra per le necessità che aveva Italiano nella Fiorentina ma lui questo ce l'ha raccontato Pizzigoni lui di se stesso pensa di essere una seconda punta e che tra giocare a destra a sinistra lui preferisce giocare a sinistra sul piede forte come cosa che sente lui come cosa che sente lui Nico ha i piedi baciati dagli dei del calcio pure lui lui beve il nettare il nettare del football che è il mate e Sancio Sancio secondo me è un giocatore anche qua che è vario pinto molto più vario pinto che giocatore ti piace? mamma mia che giocatore non mi spiego vabbè però allo United hanno fallito praticamente tutti negli ultimi anni però mi aspettavo un po' di più da lui pensavo fosse un livello talmente alto Sancio che anche allo United derelitto facesse meglio però che giocatore abbiamo visto in questi sei mesi al Dortmund allora se è recuperato fisicamente nella condizione ottimale ragazzi già Don Sancio in serie A dietro di lui c'è solo con sei mattina mattina in attesa questa mattina e stamattina tra le undici e le dodici che c'è stato il summit chiarificatore sul fronte Sancio c'è la disponibilità totale del giocatore ancora anche a limare l'ingaggio sul contratto a titolo temporaneo quindi quest'anno accetterebbe di guadagnare meno nel complessivo del contratto dei soldi sostanzialmente del contratto del Manchester United quindi la Juventus ha un altro piccolo assist da quella parte adesso serve un secondo grande assist che è quello del Manchester United che deve accettare le condizioni della Juventus sostanzialmente cosa ti aspetti Panos ti aspetti che trovino la quadra o tu dici siamo coi piedi per terra perché magari poi giuntoli a questo punto non ha così necessità di svenarsi per Sancho cioè questo è un tema che io questo lo chiedo a prescindere dal gusto io non ho i piedi per terra io non ho i piedi per terra voli voli quindi quindi non mi puoi chiedere di mettere i piedi per terra volo per la Juve se arriva Sancho sono allora non è 100 sono 110 facciamo così perché sono veramente quindi la vivo serenamente vivo questi giorni serenamente la pista polistil ce l'hai già e vai e vai serenamente ma io mi aspetto anche una sorpresa cioè di vivere l'ultimo giorno in mercato con una sorpresa un prestito un qualcosa un'uscita sì allora la Juve in prestito vorrebbe un vice Vlaovic anche nel caso dovesse sbloccarsi un'uscita di Milik i nomi individuati qua Luca l'aveva già detto uno è Calimuendo Calimuendo piace anche molto Broca Broca da non confondere con Broca Valero però Broca si è rotto si è rotto e torna tra un mese e mezzo se no era meno male meno male ragazzi Broca anche no non dire con Broca non ha passato le visite con Lips esatto lo voleva Lipswich lo voleva anche Lipsia lo voleva Lipsia Lipswich tutti Lipsia Mister su Sancho voglio sentire te è un vezzo o è l'upgrade definitivo della squadra no l'upgrade definitivo della squadra è Cup Miners secondo me è un qualcosa in più perché se guardiamo adesso il reparto d'attacco è completo senza Sancho e c'è il vice Vlaovic tra virgolette da definire non so se sarà Milik però se dovesse arrivare anche Sancho secondo me qualcuno di quelli che ci sono adesso deve uscire o comunque Mangula dovrà probabilmente tornare in Xgen non lo so perché sono davvero tanti adesso cioè diventerebbero più di due per posizione ricordiamo ma scusate ma scusate con mettendo il caso dovesse arrivare anche Sancho ragazzi noi non ce lo ricordiamo più cosa vuol dire giocare ogni tre giorni e non sappiamo perché siamo oramai disabituati e cosa tre giorni tanto l'Europa anche l'Europa League la guardavamo giusto perché con fastidio per certi non ce lo ricordiamo e in più quest'anno ogni tre giorni per tot mesi senza senza poi per carità e considera lo Sancho se lo azzecchi se lo azzecchi cioè se lo azzecchi non in quanto Sancho ma in quanto il Sancho eh eh prime top level beh se lo azzecchi sposta cioè con tutto il bene certo però nove nove giocatori per quattro posti sì è vero che abbiamo tante partite però secondo me qualcuno cioè dovrà dovrà farsi da parte non so se UEA o Magulà però no però io vi chiedo questo dal momento che si giocherà tre giorni quindi non ci saranno titolari cioè si ruoterà molto perché anche a Bologna abbiamo visto così l'undici dovesse arrivare anche Sancho l'undici ideale in un ipotetico che ne so ai gironi becchiamo il Real Madrid Juve Real Madrid nei gironi di Champions la Juve ma qual è l'undici ideale? lo vuoi sapere? qual è? quello che Tiago vede nei due giorni precedenti e vabbè allora permettiamo di fare puntate qui trastinzioni comunque io mi aspetto anche un colpo a gennaio e attenzione che lì Berardi è lì perché ritorna dall'inforto Vugno visto che non siete seri faccio anche io la mia parte allora io mi aspetto in prestito gratuito per sei mesi Calafiori dall'Arsenal o presto silenzio aspettiamo aspettiamo un attimo un anno prossimo un anno prossimo aspettiamo un attimo magari fallisce sinceramente questi tre mesi facciamo comunque loro hanno saliva facciamo un sondaggio Gabriel ce l'ho io nuovo sondaggio il numero di Copminers il 7 l'hai già fatto ieri ieri l'ho fatto a braccio con gli ospiti adesso lo faccio con i 52.000 in chat 7-8 7-8 ci limitiamo 7-8 tu dici anche un altro numero c'è l'11 anche beh l'11 secondo me ho Sancho Gonzales se arriva Sancho Sancho 7 partito il sondaggio ragazzi partito il sondaggio attenzione potete votare avete due minuti avete due minuti io vi faccio vedere l'impresa diretta ragazzi ve lo mostro impresa diretta anche agli amici qua ospiti in studio votate intanto Gariffo 7-8 8 ieri cosa hai votato così dimostro avevo detto 7 ma non mi ricordavo il numero di 7 ieri Sancho era ancora dai 8 8 dai ma come ma tu cambi idea ogni giorno domani sei proprio ti auto ti auto mostri per quello che sei è passato Panos 7-8 Panos è prezzato? no sul più bello no Zenzi per me io ho votato 7 io ho votato 7 beh c'è anche da dire però che ha ha rifiutato tutte le destinazioni è stato di due mesi certificati mesi dategli il numero che chiede no come numero è più simile a un 8 mister è più simile a un 8 è più un 8 o più un 7 è più un 8 è più un 8 sì è più un 8 8 come la pista polistil esatto eccola lì Panos è saltata la luce allora mi scrivono mi scrivono che io dicevo che ieri Sancho era al 95% adesso non dico più nulla no hai detto 96 hai detto no ma io su Sancho mi sono esposto già talmente tanto che forse a questo punto aspettiamo gli eventi che vadano come devono andare ha vinto numero 8 64% numero 7 36% ok numero 8 7 8 io io un'idea ce l'ho cioè l'11 io un'idea ce l'ho